La gestione della sanità pugliese tra il 2005 e il 2009 fatta di presunte nomine pilotate e gare d'appalto truccate rischia di non essere accertata fino in fondo. A quasi un decennio dai fatti il Tribunale di Bari ha calcolato che ben 23 delle 25 imputazioni contestate a 18 imputati, tra i quali l'ex senatore PD ed ex assessore alla sanità alla Regione Puglia Alberto Teresco, sono ormai prescritte. Resterebbero in piedi la presunta associazione per delinquere e un episodio di concussione risalente a gennaio 2009, reati contestati a 10 imputati. Il Tribunale di Bari formalizzerà la dichiarazione di prescrizione nell'udienza del prossimo 6 dicembre. Potrebbero così uscire dal processo 8 imputati, sono accusati a vario titolo, dei reati fine della presunta associazione, abuso d'ufficio, corruzione falso, turbativa d'asta, truffa, peculato e rivelazione del segreto d'ufficio, tutti prescritti. Tra loro anche l'ex DG dell'Asla di Bari, Lea Cosentino. Il processo comunque proseguirà per accertare i reati residui. Dal 10 gennaio 2017 il Tribunale ascolterà infatti i testimoni citati dalla Procura. Primo fra tutti l'imprenditore barese Gian Paolo Tarantini, imputato in un altro processo sulla sanità pugliese e le cui dichiarazioni hanno consentito in quegli anni alla magistratura barese di ricostruire parte della presunta gestione illecita di asle e appalti. In questo processo il più ampio e antico sulla sanità in Puglia, l'allora assessore regionale Alberto Telesco, insieme con dirigenti di aziende ospedaliere e imprenditori, è accusato di far parte della presunta cupola che tra il 2005 e il 2009 avrebbe gestito la sanità, una rete, secondo la Procura di Bari, in grado di controllare forniture e gare di appalto, che venivano illecitamente pilotate verso imprese facenti capo imprenditori collegati da interessi familiari ed economici, con i referenti politici e che erano in grado di controllare rilevanti pacchetti di voti elettorali da dirottare verso Tedesco in occasione delle competizioni elettorali. Quando le notizie di stampa rivelarono l'esistenza dell'indagine, nella primavera del 2009, Tedesco si dimise. Nel febbraio 2011, poi la magistratura barese ottenne l'arresto di cinque indagati e chiese l'autorizzazione a procedere anche all'arresto di Tedesco, che nel frattempo era stato eletto senatore. Il Senato bocciò la richiesta per ben due volte e Tedesco finì ai domiciliari, per 12 giorni, due anni dopo, nel marzo 2013, alla scadenza del mandato parlamentare e quindi dell'immunità.